molti mi chiedono perché io parli di strategia umanistica e che cosa esattamente vuol dire per esempio in una recente intervista a iso radio ho spiegato che nell'arco dell'ultimo secolo ci sono stati tre tipi di leverage il primo quello di marx diciamo del capitale sul lavoro il secondo quello delle regole di basilea del ventesimo secolo che oggi ancora viviamo cioè il leverage del debito sul capitale e questo è il secolo secondo me di un terzo tipo di possibile leverage cioè del lavoro sul capitale che è esattamente l'opposto del capitale sul lavoro dal quale partimmo 170 anni fa circa con carlo marx perché vi dico queste cose perché ci sono due grandi filosofie possibili in materia di strategia la prima è la filosofia cosiddetta strutturalista è quella alla quale tanti sono abituati usando un linguaggio quando parlano di strategia apro un inciso strategia non vuol dire mettere un aggettivo sulle parole no come fanno in tanti pensando che mettendo un aggettivo si diventa esperti di quella materia non possiamo dire pizza strategica o certificazione strategica punti strategici o margherita strategica o profitero strategico non basta mettere su di un oggetto un aggettivo per diventare esperti di quella materia bisogna averci dedicato almeno un quarto di secolo di vita quindi io vi dico che alcune opinioni in termini di comunicazione marketing scelte organizzative controllo di gestione ed altro che vedo in tanti diciamo comunicazioni che oggi vanno per la maggiore materia per esempio di sg vedo tanti commercialisti che parlano di queste cose ecco in realtà stanno parlando di cose vecchie perché si riferiscono a delle filosofie di almeno 30 40 anni fa è la filosofia appunto diciamo strutturalista cioè là fuori il mercato è una torta e io devo andare a prendere una fetta di quella torta come competendo sul prezzo in altre modalità la filosofia ricostruzionista che da una ventina d'anni in avanti diciamo a questa parte si è sviluppata invece dice che perfino voi se avete delle piccole e medie imprese potete andare a cambiare là fuori le cose come cambiando il modo di pensare ecco la filosofia mia che quella della strategia umanistica è una variante della seconda cioè una variante della ricostruzionista per andare là fuori a cambiare la realtà bisogna cambiare dentro l'uomo ecco il dialogo che io faccio tutti i giorni con gli imprenditori è un dialogo sull'uomo più che sui bilanci e sui rating ed è quello che ho imparato in tutte le grandi imprese nei ministeri nelle università nelle banche nei confidi andare a parlare all'uomo l'uomo è centrale questo vuol dire strategia umanistica e non ho ancora trovato un imprenditore o un'imprenditrice che non sia passione di questa visione perché perché invece di adattarsi come volevano darwin o freud possiamo andare a cambiare la realtà là fuori siamo piccoli non possiamo cambiare non è vero il fatto di essere piccoli è un fatto mentale non è un fatto di fatturato ci vediamo il 3 di luglio Grazie